Il piramidale inverso, conosciuto anche con il nome di piramide inversa, è una tecnica di allenamento forse per intermedi e avanzati, non certamente per principianti. E qual è il suo scopo? È quello di andare a lavorare in maniera differente le fibre muscolari. È praticamente il contrario di un classico piramidale. Esempio banale, quando si parla di piramidale classico si intende ad esempio un 12, 10, 8, 6, che sono le ripetizioni da compiere in un determinato set e ovviamente man a mano che il numero di ripetizioni sale, quindi da 12 si va verso 6, il peso aumenta. Ora cosa succede in questa fase? Chiaramente le fibre muscolari si affaticano man a mano che si scende da 12 in progressione verso 6 e quindi la sesta ripetizione, o meglio scusate, l'ultima serie che porta alle 6 ripetizioni chiaramente sarà molto affaticata. Le fibre bianche saranno poco chiamate in causa perché già stancate, addirittura fino a un 50%. Pensate un po'. Dall'altra parte il piramidale inverso serve a partire al contrario, ovvero andare a fare un bellissimo riscaldamento propedeutico perché altrimenti ci si fa male, qui bisogna essere intelligenti, e poi si parte freschi in un certo senso con la prima ripetizione, o meglio il primo set, che sono 6 ripetizioni. Quindi qua abbiamo la massima potenza, la massima freschezza, e mano a mano che andiamo verso le 12, quindi 6, 8, 10, 12, toglieremo del peso e aumenteremo le ripetizioni andando verso una forte acidosi per ovvi motivi. Ad esempio questo l'ho strutturato nel video che ho pubblicato oggi pomeriggio sui visibiti come primo esercizio, dove appunto vado a fare un 6, 8, 10, 12. Questo ragazzi per concludere è una tecnica sicuramente molto efficace, ma come sempre va contestualizzata nel vostro momento più giusto.